17esimo memorial bruno albera e dopo le emozioni del sabato con il campionato italiano team relè l'italia bike up ciao young torna a pergine val sugiana all'ombre di questo splendido maniero per questa sua ultima prova e quindi qui fuoco alle polveri per il gran finale di questo intenso circuito giovanile 17esimo memorial bruno albera l'organizzazione a cura della mountain bike oltre fersina che riaccende i fari sul parco dei tre castagni per il secondo round della sua manifestazione una seconda data per le categorie giovanili scelta per dare più respiro ai giovani rider ancora alle prese con gli impegni scolastici una scelta doverosa da parte nostra ovviamente sottolineare una scelta che ha premiato la mountain bike oltre fersina che in queste due giornate ha visto come concorrenti iscritti 900 atleti quindi giovanissimi esordienti allievi maschi femmine logicamente e i master e si parte quindi due giri da percorrere e come oramai coloro che ci seguono da diverso tempo hanno imparato si va con la prima categoria è il momento quindi degli esordienti di primo anno e l'unplan delle prime quattro prove è di mattia a canfora della formazione asd monticelli bike vincitore di tutti i precedenti round che quindi gli consente di gestire questa leadership con totale serenità da segnalare che c'è mattia a canfora nella giornata precedente poi è stato l'atleta il trascinatore se così vogliamo che ha portato alla vittoria del campionato italiano titolo tricolore alla monticelli bike nel team rally partendo per ultimo nel quartetto e questa è stata la scelta tecnica vincente se l'è vista con dei marcantoni tra l'altro come appunto gli allievi di secondo anno oggi vediamo dei ragazzi che sono sviluppatissimi e quindi lui esordiente di primo anno è riuscito a tenere quel ritmo quel ritmo che già fin da queste prime fasi di gara vediamo che ha cominciato a fissare perché è lui in prima posizione maglia azzurrina quella appunto di leadership del circuito Italia Bike Up Ciao Young e vediamo quindi la situazione quindi con i concorrenti al passaggio dinanzi alle nostre telecamere qui siamo con la zona dei team e quindi vediamo che appunto una lunga salita ci porta nella parte alta del percorso non appena sotto a Castelpergine c'è anche la zona più divertente perché proprio qui c'è il bike park permanente dossi paraboliche rock garden drop e qui si whippa che è una meraviglia appunto su quel ponte poi qualcuno lo abbiamo visto fare dei bei salti qui appunto abbiamo visto l'area tecnica due uomini Mattia Canfora e Davide Grigi le sfide ovviamente le hanno sono stati loro i grandi protagonisti e quindi dicevamo per questa che è l'ultima prova ed è la quinta prova del circuito giovanile dell'Italia Bike Up Ciao Young quella che deciderà il destino appunto delle maglie dei leader finali del circuito che iniziò ad Albenga per loro il 12 marzo e qui ancora numero uno appunto il portacolori della Monticelli Bike abbiamo visto la sagoma quella del protagonista indiscusso Mattia Canfora e appunto dopo il passaggio sotto il traguardo siamo nuovamente appunto dopo il primo passaggio sotto il traguardo che ovviamente e volevamo dire e sta per essere affrontando con ancora una volta un straordinario Mattia Canfora attendiamo tendiamo quindi di conoscere bene cosa si sta delineando alle sue alle sue spalle con sempre questa splendida vista di questo castello di cui vi abbiamo anche raccontato già la storia Castelpergine che appunto sovrasta tutta l'area Mattia a Canfora Monticelli Bike maglia di leader numero 286 vediamo appunto che si alza sui pedali sta dando fondo già alla sua azione nel corso dei due giri che ricordo devono affrontare i ragazzi e quindi già appunto al primo passaggio sotto il traguardo suono della campana Davide Grigi poi che lo sta inseguendo intanto siamo al passaggio nel bike park quindi e sta aumentando il vantaggio di Mattia eccolo qua e alle sue spalle quindi Davide Grigi team Alba Orobia Bike la sua formazione vediamo ancora sì la sagoma è lì 12 secondi doveva essere l'ultimo aggiornamento della situazione per Davide Grigi Lombardo così come Mattia Canfora e poi in terza posizione dovrebbe esserci l'unione ciclistica Costa Masnaga con Jacopo Matteo Gualtieri attendiamo poi ovviamente un altro riscontro visivo per lui sono un po' di più siamo sui 30 secondi di svantaggio per l'unione ciclistica Costa Masnaga SD i suoi colori sono questi anche questo è un bel bivaio giovanile storico in italiano i giovanissimi sono impegnati nel meeting nazionale che si sta disputando disputando a Monte Silvano proprio in questa giornata in concomitanza e anche lì ovviamente multidisciplina i bambini partono per chi non fosse abbezza appunto a seguire sempre le nostre prove con strada sprint gincana e mountain bike appunto fuori strada quello che oggi vede vede ancora impegnati appunto i portacolori della Costa Masnaga che è lì in terza posizione ma il rettilineo finale ci porta con la vittoria del dominatore indiscusso Mattia a Canfora SD Monticelli bike completa in 29 minuti e 30 secondi l'ultima tappa di appunto Pergine Balsugana con la quarta prova del campionato italiano di società secondo Davide Grigi 15 secondi per lui di svantaggio team Alba Orobia bike e terza posizione a 37 secondi Jacopo Matteo Gualtieri 3 è appunto della formazione da tre formazioni Lombarde arriva in quarta posizione Michael Carreri della Orange Bike Team attendiamo quindi dalla Val d'Aosta arriva in quinta posizione Raffaele Tremblant della Kumaier ed eccoci qua con Joel Philippot della Gruppo Sportivo Lupi Valle d'Aosta ancora quindi con la Val d'Aosta Federico Chivilo della Mountain Bike Zero Asfalto c'è Marco Soddu della Bike Movement Trentino Bike Riccardo Bianchi della Gaga Bike e quindi Emilia Romagna chiude in decima posizione e Mattia Pirovano del team Alba Orobia Bike ASD quindi con il podio che si va a stilare una maglia che ovviamente più di lui non se la merita nessuno insomma in questo circuito indiscutibilmente il più forte Mattia Acanfora e qui eccoci qua con la corsa subito dopo in batteria per la polisportiva oltre Fersina eccoci qua si parte con gli esordienti di secondo anno numeri veramente molto molto importanti per loro siamo quindi con 95 concorrenti per i ragazzi che adesso vedete che si lanciano appunto lungo le prime curve un bellissimo serpentone multicolore che fa colorare questa splendida valle trentina eccoci qua appunto ovviamente il percorso per loro rimane lo stesso e allora quindi le emozioni che continuano a susseguirsi e quindi con gli esordienti di secondo anno la seconda prova che adesso assistiamo con Riccardo Fasoli della Speedbike Rocks che è il leader di categoria un vantaggio abbondante dovrà amministrarlo in maniera sapiente logicamente per quindi il portacolori della Speedbike Rocks e quindi staremo a vedere un po' che cosa accadrà intanto vediamo subito che in queste prime fasi di corsa la fatica dei corridori in questo tratto in salita non lasciatevi ingannare dal teleobiettivo perché appunto schiaccia molto eccoci qua nel bike park con curve e controcurve paraboliche guardate che spettacolo splendido un bike park permanente quindi insomma per non solo coloro che sono gli abitanti della vallata ma per chiunque sia in zona anche in vacanza insomma poter magari chiedere di provare questo percorso insomma c'è da divertirsi alla faccia vedete appunto la suggestiva vista dall'alto con tutti i concorrenti logicamente già si sono molto divisi già diversi metri intercorrono tra un corredore e l'altro e quindi anche qui ci aspettiamo oggi tra i protagonisti i corridori che sono per quanto riguarda i protagonisti ci aspettiamo quindi cavalleri le marmotte l'oreto armanasco poi team rebel e vediamo attenzione quindi in questo momento la situazione vede tre uomini là davanti al comando c'è anche la monticelli bike riconosciamo la sagoma di roberto pinna quindi poi c'è per quanto riguarda vediamo vediamo un po' di chi si tratta con la formazione ciclitorin c'è Giovanni Bosio c'è Pietro Marchi ci sono anche i corridori della gagabike del team Emilia Romagna questi sono appunto alcuni dei nomi che siamo riusciti a scorgere ovviamente spreciano molto molto veloci è anche difficile a volte riuscire a individuare di chi si tratta salti appunto che non finiscono mai e qui adesso stiamo vedendo che la situazione ci porta là davanti al comando con il team rebel Raffaele Armanasco che è il corridore che ha fatto il miglior giro 14 minuti e 17 è il tempo che ha fatto registrare il miglior giro numero 182 ed è proprio Raffaele Armanasco che adesso si è posizionato alla testa 14 minuti 17 secondi e si anche virgola 5 poi per essere precisi logicamente però è Raffaele che in questo momento sta guidando anche per loro ovviamente sono due i giri che devono percorrere e anche qui distanza di 30 minuti di percorrenza per loro eccolo qua Raffaele del team rebel e poi c'è con Riccardo Fasoli vediamo quindi ci aspettiamo una situazione diversa quindi da quello che ci si poteva aspettare perché adesso in questo momento abbiamo Riccardo Armanasco davanti poi c'è vediamo la situazione perché Mattia Cavalleri se la gioca con Riccardo Fasoli per la medaglia d'argento le marmotte Loreto la speedbike rocks quindi sono le due formazioni e come abbiamo detto le marmotte Loreto sono reduci dalla vittoria ieri al campionato italiano del team relais e davanti vince Raffaele Armanasco team rebel bike vediamo un po' dietro chi se la va a giocare per la seconda posizione dovrebbero arrivare praticamente gli allineati e spunta la maglia delle marmotte Loreto davanti con Mattia Cavalleri davanti a Riccardo Fasoli della speedbike rocks in quarta posizione Roberto Pinna arriva della Monticelli bike quindi allora eccoci qua i complimenti che sono raggiunti da Mattia delle marmotte Loreto ripetiamo quindi Armanasco Raffaele del team rebel con la prima posizione 28 minuti 44 secondo a 16 secondi Mattia Cavalleri Riccardo Fasoli della speedbike rocks Cavalleri delle marmotte Monte di Cieli bike Roberto Pinna quinto Mattia Olivieri dell'Aquiliano Bike sesto Alessandro Iacchetta ciclistica rostese dal Piemonte Nicolò Aperto Martini della Hellas Monteporte settimo Pietro Marchi della Monta Aquile in ottava nono Giovanni Bosio cicli Fiorin e la top 10 viene conclusa con Matteo Tassinario della speedbike rocks e quindi eccoci qua con la premiazione con appunto Matteo Cavalleri che è secondo anche nel il secondo al traguardo è Matteo Cavalleri che è anche secondo ora nella classifica generale quindi con Riccardo Fasoli che riesce nella missione e si è andato a giudicare quindi come avete visto la classifica generale e ora è il momento delle ragazze nelle categorie femminili i distacchi sono consistenti tra le donne lieve di secondo anno Elisa Pontara dell'SD GOMAS una delle formazioni organizzatrici del del circuito la prima tappa quella di Verona categorie internazionali conserva la maglia rossa con maglia rossa con 300 punti 70 di vantaggio su Sabrina Rizzi James Byte in buia e si parte quindi con le donne esordienti quindi pardon nelle donne con tre giri da percorrere donne allievi primo anno c'è Elisa Bianchi della Flanders Love Sportland a lei sembra ovviamente avere saldamente la maglia sulle spalle donne allievi di primo anno che partono a un minuto di distanza quindi adesso vedremo quindi quattro partenze logicamente una di seguito all'altro donne esordi di secondo anno allo start quindi e quindi nella categoria vediamo cioè dicevamo con Elisa Bianchi nella donna esorditi di primo anno con sul pod pariata con Nicola Zetti ed Elisa Giangrasso dell'Orange Bike Team giocano la seconda e terza piazza donne esordite di secondo anno la costanza di Maria Chiara Signorelli della Monticelli Bike la portata a sfiorare il punteggio pieno ma con i suoi 380 punti la leadership è veramente salda più combattuta invece tra le donne esordite di primo anno che sono scattate anche loro con Giorgia Sardi l'Emiliano Romagnola della Gaga Bike Team Beatrice Maifre della Melavi Tirano Bike ci sono 50 punti di differenza di scarto tra loro la maglia viola di categoria potrebbe essere tutta da riscrivere e quindi adesso cerchiamo logicamente di seguire tutte le ragazze che adesso si vanno a giocare le loro maglie le loro chance in questa ultima prova dell'Italia Bike Up Chai Young con le categorie giovanili e guida la corsa in questo momento da leader della classifica generale Elisa Pontara ASD Gomas quindi stiamo parlando delle ragazze allievi di secondo anno quindi con la prima posizione e poi adesso via via cerchiamo anche di distinguere le altre tre categorie con logicamente le loro leader con coloro che in realtà sono in prima posizione qui intanto splendido salto che le ragazze vanno ad affrontare attenzione perché transita la prima delle allieve adesso ha superato questa ragazza della Monticea di Bike è Elisa Gian Grasso seguita però da un'altra concorrente Elisa Elisa Bianchi quindi attenzione attenzione a queste fasi con queste queste due ragazze che logicamente poi ce la vanno a giocare per quanto riguarda invece testa della corsa esordienti di secondo anno la campionessa italiana tricolore eccola qua Nicole Righetto seguita dalla leader della classifica che è Maria Chiara Signorelli anche lei come a Canfora fresca vincitrice del campionato italiano team Relais tutte e due ovviamente lei è partita in penultima posizione in terza posizione visto che la team Relais è una staffetta mista con la partenza di quattro concorrenti per squadra e poi ha chiuso Mattia a Canfora per fare un refresh di ciò che è avvenuto ieri mentre adesso siamo pronti per il primo passaggio quindi sotto il treguardo e si è formato un drappello vediamo un po' con ci sono quattro e poi altre tre atlete giusto lì ma sono lì vicinissime due giri intanto al termine per loro sono sette atlete quindi vediamo vediamo anche se riusciamo a riconoscere qualcuna delle atlete che sono davanti per coloro che sono la categoria delle donne allieve di secondo anno vediamo che c'è la maglia del James Bike quella è sicuramente di Sabrina Rizzi poi c'è la Jomas con Elisa Pontara c'è della Sunshine Anna Sinner per quanto riguarda poi Anja Simmerland della Cardano poi poi troviamo Ilaria Tambosco Sport San Fiorese altra formazione della ciclistica Rostese Mari Cacomba e penso di averne dimenticata una spero di no Sofia Bianchini della Cassina De Bracchi ecco questa è l'atleta la settima atleta quindi con la categoria allieve di secondo anno mentre la prima delle donne del primo anno è Elisa Bianchi che ha raggiunto e superato Elisa Elisa Giangrasso questa la riconosciamo Flanders Love Sportland la formazione di questa ragazza poi per quanto riguarda la prima delle solo terza Nicola Zetti che se si chiudesse così la corsa Elisa Giangrasso sarebbe ora la seconda in classifica generale però adesso staremo a vedere che cosa accadrà perché poi ripetiamo ragazze di categoria donna lieve tre giri mentre due per coloro che fanno la categoria di secondo di esordienti primo e secondo anno logicamente ma siamo pronti ora a avvicinarci sempre di più e c'è Sabrina Rizzi attenzione attenzione Sabrina Rizzi James Mike Team Buia la formazione è quella di Buia Buia una primavera fantastica per per questi per questo paese in ogni disciplina ciclocross strada pista mountain bike è veramente grande protagonista veramente in ogni in ogni punto e Sabrina Rizzi non è da meno oggi a difendere quei colori del James Fighting Buia Sabrina Sabrina Rizzi che è anche ha concluso il suo giro in 14 e 27 quindi lei in questo momento appunto è in prima posizione ed è la prima miglior tempo anche che ha fatto registrare Sabrina Rizzi della James Bike Team Buia al comando c'è Maria Chiera Signorelli che ha superato poi Nicole Righetto siamo quindi nel bike park quindi si diventa decisivo questo bike park con Sabrina Rizzi davanti al comando con le ragazze appunto allievi di secondo anno Maria Chiera Signorelli ha superato Nicole Righetto esordienti di secondo anno secondo anno e poi vediamo un po' c'è un'altra leader al comando Giorgia Sardi l'Emiliano Romagnolo della Gaga Bike che sta conducendo la gara su Beatrice Beatrice Maifre quindi questa è un po' la situazione con i nostri operatori che stanno facendo veramente un ottimo un ottimo lavoro per tentare di portarci portarci nelle situazioni nelle quattro situazioni di una gara unica che si sta si sta disfrutando e poi abbiamo visto il pubblico abbiamo visto i volontari sono 60 presenti lungo il percorso ma qui ci siamo attenzione attenzione perché è in arrivo per le esordienti hanno un giro in meno da fare Maria Chiara Signorelli che vincendo quattro prove su cinque si è confermata vincitrice della classifica generale il podio quindi rispecchia la situazione finale Beatrice vincitrice Maria Chiara Signorelli Monticelli Bai Nicol Righetto seconda di tappa e nella generale team Velociraptor Cecilia Corzolio terza in entrambe le classifiche quindi Quigliano Bike Marchisio vittoria anche per Giorgia Sardi che conquista la classifica generale quindi per lei eccoci qua con le ragazze si vanno si vanno a complimentare l'un con l'altra logicamente e attendiamo quindi le ultime pedalate le ultime curve l'ultima curva è per Sabrina Rizzi James Byte in buia autrice di una splendida gara in totale controllo la gara invece qui lo attendiamo quella di Elisa Elisa Pontara tra le donne allievi di secondo anno che ha gestito il vantaggio accumulato nelle prove vince la maglia rossa disegnata da Ale e quindi insomma eccoci qua con le ragazze ha tagliato quindi il traguardo Elisa Bianchi tra le donne allievi di primo anno che con la vittoria nella tappa conclusiva si è guadagnata in maniera definitiva la maglia rossa di leader di categoria bella la sfida per il podio di cui il pari merito tra Elisa Gianfrasso e Nicola Zetti un sorpasso proprio da parte di Elisa Elisa Giangrasso nei confronti di Nicola Zetti che ci ha dato comunicazione adesso appunto che è lei in prima posizione abbiamo atteso anche qualche momento prima di dare logicamente un risultato visto che sono arrivate molto vicine e ovviamente l'ufficialità in commissaria di giuria e allora quindi questi sono un po' tutti gli arrivi poi andremo a ricapitolare i podi per dare ovviamente maggior ordine a tutti questi arrivi ma intanto i sorrisi delle ragazze è quello che ci colpisce nel ciclismo non lo so come mai ma c'è sempre un sorriso alla fine e poi la bellezza che tutti si incitano insomma si incitano tutti dal primo all'ultimo insomma non c'è mai un accadimento contro qualcuno o se non adesso mai non lo diciamo però in separati in piccoli casi molto molto isolati e qui intanto adesso vi diamo un po' classifica con le donne esordie di primo anno Giorgia Sardi Gagabyte Team prima subettrice Myfrey seconda della Mela V terza Caterina Pertaviera della Carnon Tubo quindi in terza posizione con le ragazze di donne esordienti di secondo anno Marietchiera Signorelli prima della Monticelli Bike seconda Nicola Righetto Team Velociratto terza Cecilia Corzolio della Quiliano Bike per quanto riguarda le donne allieve di primo anno Elisa Bianchi prima della Flanders Law Sportland Elisa Giangrasso seconda Orange Bike Team terza Nicola Zetti della Fures Racing Team concludiamo con le donne allieve di secondo anno vittoria come abbiamo visto della James Bike in Buia con Sabrina Rizzi dal Friuli Sofia Bianchini della Cassina De Bracchi terza posizione Elisa Pottara della SD Gio Mas quindi in terza posizione e allora questi sono anche un po' tutti i podi delle ragazze che abbiamo visto sfidarsi e ora è arrivato il turno il momento dei primo anno quattro atleti ristretti in un fazzoletto di 87 punti e tutto qui può succedere è Filippo Grigolini ancora una volta James Bike in Buia la formazione Maglia Verde di Leader che è là al centro e scatta in questo momento la prima fila quindi dovrà stringere veramente i denti e guadagnarsi contro un Simone Pesenti scatenato dalla Speed by Rocks Michele Valciani KTM intanto quattro giri abbiamo visto la grafica che ci suggeriva da percorrere per questi ragazzi e poi c'è Jacopo Putaggio della Ucla 1991 che ha GP Servizi Baseco quindi questi sono i quattro atleti lì che sono in lista per questa prova ed eccoci qua quindi con i ragazzi che adesso si danno battaglia e in questo momento adesso si vedete sorpassi contro contro sorpassi in queste fasi con Filippo Grigolini che si alza sui pedali vuole tenere lui intanto la la prima posizione per impostare al meglio le prime curve e non farsi suggestionare da qualcuno logicamente intanto siamo al passaggio qui sotto questo tratto all'ombra del del bosco praticamente che i ragazzi affrontano in questo in questo percorso eccoci qua col bike park intanto vedete questo turbinio di paraboliche che praticamente vanno non solo a mettere a caratterizzare questo percorso ma veramente renderlo anche speciale sicuramente per i ragazzi che si stanno gareggiando si mettendo l'agonismo si ma anche divertendo questo è garantito siamo all'uscita del bike park in prima posizione c'è sempre lui Filippo Grigolini James Byte in buia eccolo là salto poi cerchiamo di dare tutte le altre posizioni quindi con gli allievi di primo anno quindi che si stanno adesso dando battaglia cerchiamo di darvi anche la situazione che è sentato veramente spettacolari sono queste curve queste paraboliche questi questi salti e volevamo darvi il dato che anche qui è abbastanza interessante sono 84 i concorrenti partenti quindi insomma anche qui un bel un bel numero veramente e là davanti dovrebbe esserci ancora una volta Grigolini che conduce con Michele Falciani porta colori della formazione del KTM Alchemist e poi dovrebbe esserci Simone Pesenti Speedbike Rocks adesso vediamo un po' il passaggio zona traguardo riconosciamo la maglia gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta con Paolo Costa però insomma sono ancora tanti sono due quattro sei sette concorrenti appunto lì vediamo c'è la James Byte in buia anche che si intravede non è la maglia di Grigolini però si tratta di Samuele Mania che e quindi sono lì sono questi un po' i protagonisti bellissima anche con l'immagine dall'alto che va a seguire i ragazzi ci fa praticamente vivere in come se stessimo attorno a loro accanto a loro questo queste fasi di gara con Grigolini là intanto il leader in seconda posizione c'è la formazione intanto adesso vediamo che sta cambiando la situazione con sempre questi atleti adesso sono un po' più distanti beh questo avviene logicamente in prossimità dell'ingresso nella zona del bike park con le paraboliche e con nelle prime posizioni ci vediamo per la Speedbike Rocks Simone Pesenti Giacomo Castellan della Bike Movement e poi c'è Samuele Mania della James Biting Buia c'è Jacopo Putaggio della Ucla 1991 questi sono un po' i portacolori vediamo ecco qua che vanno a transitare ovviamente una situazione che evolve a ogni a ogni scarto ovviamente di parabolica quindi una situazione veramente molto interessante con Gregolini che è sempre lì il campione italiano di ciclocross 2023 vinto questo titolo a quello di Castel Roganzuolo in quel appunto di San Fiorre e quindi insomma per questo ragazzo che si sta ovviamente andando ad aggiudicare questa maglia di leadership la deve difendere che quindi non molla la seconda posizione non la molla in alcun modo insomma grande tenacia per lui nonostante i diversi attacchi ora quelli di Michele Falciani del KTM Alchemist Powerhead in prima posizione poi c'è Simone Pesenti e ora c'è il tandem c'è un tandem a due vediamo quindi dietro con il numero 100 c'è Giacomo Castellan della Bike Movement Trentino ora con il forcing attenzione quello di Filippo Gregolini James White in buia ora vuole mettere appunto giù l'acceleratore giù i watt vediamo quindi cosa succede con l'allungo di Gregolini riescono a prendere ora una bella manciata di metri al termine quindi della salita prova ad andare via proprio lui Filippo Gregolini James White in buia vediamo appunto questo forcing ci godiamo queste immagini spettacolari proprio con il ragazzo della James White in buia vediamo appunto in seconda posizione invece per quanto riguarda Michele Falciani che ora però si è riportato sotto eh non si è arreso non si è arreso quindi il ragazzo che difende i colori della KTM Alchemist sono loro due mentre sono segnalati a 15 secondi 15 15 secondi in questo momento Simone pesenti della Speedbike Rocks con Giacomo Castellan eh e ora li attendiamo vediamo quindi eh di chi si tratta la Speedbike Rocks eccoci qua Simone Pesenti ha perso invece vediamo se si ritrova lì con il il i ragazzi appunto in quarta posizione con il numero dorsale 91 Alessandro Viola Racing Team Riveros quindi situazione dietro alle spalle che sta cambiando poi ovviamente l'immagine passa sulla prima posizione quella di Filippo Gregolini della James Bike Team Buia ed eccoci qua lanciati nel finale con lui il leader e quindi la maglia dell'Italia Bike Up Ciao Young rimane sulle sue spalle quindi con Gregolini in prima posizione fa bottino pieno quindi a pergere con la vittoria la conquista definitiva per la maglia verde degli allievi di primo anno al secondo posto Michele Falciani KTM Alchemist arriva Simone Pesenti Speedbike Rocks nella generale Simone Falciani concludendo al secondo posto quindi balza lo balza anche lì quindi eccoci qua con Simone Pesenti poi come dicevamo in terza posizione per la quarta piazza Giacomo Castellan della formazione Back Movement Trentino c'è Biola Alessandro Racing Team delle Rive e poi sesto Paolo Costa gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta settimo San Buenemania James Bight in buia ottavo Jacopo Putaggio della Ucla 1991 nono Matteo Villa della Triangolo Lariano SD e Pietro Deon chiude per la società sportiva San Fiorese la decima in decima piazza quindi beh il sorriso ora per James Bight in buia con Filippo Gregolini quindi Friuli che si aggiudica quindi questa prova negli allievi di primo anno ma ora sono quelli che abbiamo ho rinominato in realtà Marco Antonio insomma nella nostra prima parte di Telecronaca si tratta degli allievi di secondo anno quindi una bella sfida molto molto accesa nella 17esima edizione del Memorial Bruno alverà il fischio d'inizio che è dato questo momento ai ragazzi e quindi dopo 4 prove troviamo Elia Rial da Piacenza Gaga Bike Team leader di categoria dovrà quindi difendersi da Federico Rosario Brafa della Biassono ASD tra i due ci sono 20 punti di differenza quindi veramente accesa questa sfida e quindi poi vediamo subito c'è Rial che è la maglia blu come potete vedere in mezzo al polverone che si è alzato c'è la James Bike Team Buia poi e qui è il pluricampione italiano anche di ciclocross tra l'altro quindi Ettore Fambro e allora quindi sono loro due adesso Ettore Fambro che prova a superare tra l'altro abbiamo visto prima che uscisse dall'inquadratura proprio Elia Rial il leader e quindi subito si comincia a scattare si comincia a dare ad accendere il fuoco alle polveri come si dice eccoci qua con tutti anche gli altri concorrenti che vediamo vediamo appunto dalla metà del gruppo praticamente che affrontano questo tratto e allora nuovamente sulla testa con Elia Rial Emilia Romagna Gagabyte Team è il campione italiano in carica nel mountain bike Ettore Fambro quest'anno ha chiuso terzo con i campionati italiani di ciclocross lui l'ha già vinto tuttavia altre due volte se non erro James Bike in buia poi c'è abbiamo visto Gabriele Scagliola della ciclistica rostese quindi il Piemonte protagonista quindi nelle prime posizioni eccoci qua vediamo qui appunto cerca di dare un po' fondo a questa azione Ettore Fambro James Bike in buia e poi via via gli altri c'è che sprecciano veramente molto forte c'è Giovanni Zago vi ho visto c'è Michele Simonetto c'è Riccardo Cadeo abbiamo visto quindi un po' di maglie quelle della Rockbike Team della ciclisti Val Gandino abbiamo visto la Soligo Bike insomma questi sono un po' anche coloro che stanno appunto l'intorno alla decima posizione ma intanto stiamo per vedere la svolta l'ultima curva che i ragazzi affrontano del tracciato di gara e che quindi attraversa il portale con i tre giri il cartello organizzativo gli va ad indicare ai ragazzi tre giri dalla conclusione e vediamo la situazione che subito si sta andando a delineare con due uomini e le sa come sono ovviamente almeno i nostri occhi insomma inconfondibili quelli di Elia Real della Gaga Bike Team e Ettore Fambro della James Bike Team Buia e poi in terza posizione leggermente più attardata è la maglia arancio e della Rock Bike Team Filippo Massimino è lui che insegue in questo momento il gruppo intanto perché è l'avanguardia insomma del gruppo c'è il velo a montirone c'è Massimo Savoldini c'è del Massimo Savoldini quindi con Thierry Filippot questi sono i due ragazzi Elia Real Ettore Fambro numero 1 e numero 2 eccoci qua appunto nell'ordine che vanno a transitare davanti alle telecamere mentre non si intravede più la maglia della Rock Bike Team di Filippo Massimino quindi è ha perso ha perso e allora se la vanno a giocare in due la vittoria oggi e qui sarà una bella una bella sfida terza posizione attenzione c'è la maglia della ciclistica rostese Gabriele Scagliola ecco ora transit quindi Rock Bike Team Filippo Massimino mentre i primi due sono qua Elia Real maglia di leader il campione italiano di mountain bike già stato campione italiano di ciclocross Ettore Fambro sarà veramente una sfida secondo me che si decide praticamente sul filo di lana tra questi due perché sono due grandi combattenti hanno grandi doti tecniche già che hanno dimostrato e come vedete non rimane solo Elia davanti si dà il cambio con o cambio cerca di prendersela logicamente la prima posizione Ettore Fambro James Bike Timbuia terza posizione intanto per Gabriele Scagliola all'inseguimento ma lo svantaggio è superiore ai 25 secondi eccoci qua che prende anche per l'ultima volta il rifornimento Elia Real Ettore Fambro adesso si va un po' più in agilità per quanto riguarda Ettore Fambro Elia Real rapporto un po' più duro si sono dati anche un'occhiata uno sguardo per capire un po' anche quali sono le sensazioni perché in fondo al teleobiettivo intanto abbiamo visto che è entrato Gabriele Scagliola eccolo qua anche qui inquadrato portacolori piemontese della ciclistica Rostese il numero 7 in gara anche lui non è molto distante insomma quindi alla fine non ha lasciato andare nonostante insomma siano veramente veramente abbiano già dimostrato veramente tanto Elia Real Ettore Fambro Gabriele Scagliola quindi in terza posizione ecco qua il Rock Garden del Bike Park con le paraboliche qui ancora si stanno si stanno appunto un po' studiando infatti cioè Gabriele Scagliola della ciclistica Rostese che si sta molto avvicinando pericolosamente se non si danno una mossa potrebbe rinvenire da dietro appunto Gabriele Scagliola anche se erano segnalati più di 27 20 20 secondi più di 20 secondi nei confronti dei due quindi insomma diventa importante mentre adesso si lanciano giù nella discesa i due ragazzi Elia Real ed Ettore Fabbro eccoci qua attenzione perché c'è Elia Real in prima posizione non vediamo più la sagoma quella di Ettore Fabbro quindi attenzione attenzione quindi a questa ultima discesa dove Elia Real ha guadagnato ha guadagnato sensibilmente allora le fasi conclusive il rettilineo finale in impennata vede la vittoria del leader dell'Italia vai cap ciao Young Elia Real il campione italiano che lancia anche una scodata al proprio al proprio compagno al proprio tecnico vittoria del diciassettesimo Memorial Bruno Alvera Elia Real staccato di quasi 30 secondi dall'avversario conquista comunque dell'intero circuito giovanile altri 100 punti di vantaggio per lui è soddisfatto anche lui per la propria prova in terza posizione quindi ciclistica rostese e si tratta di Gabriele Scagliola quindi a quasi un minuto di distanza da Elia Real ed Ettore Ettore Farnberg che comunque sia si complimentano e hanno stanno ovviamente un po' dialogando su anche un po' i rischi che si sono presi io ho sfiorato il paletto poi ce l'ho fatta io sono andato sulla destra lui sulla sinistra è stata dura un altro dice insomma questo è bello lo scambio anche di opinioni post gara Elia Real Gagabike Team vince l'Italia Bike Up Ciao Young quarta prova del campionato italiano di società diciassettesimo Memorial Bruno Alvera secondo Ettore Farnberg Sbattin Buia terzo Gabriele Scagliola ciclistica rostese quarto Filippo Massimino della Rock Bike Team quinto Massimo Savoldini Velo Montirone sesto Thierry Filippotte della gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta settimo Stefano Cuneo della Bicicamogli Golfo ottavo Stefano Melanie della Monticelli Bike nono Giovanni Zago Conegliano Bike Team decima posizione Hannes Hunter della Sunshine Racers ASV Nails e quindi da Leonardo Metaldi è tutto con l'Italia Bike Up Ciao Young con la vittoria di Elia Real il campione italiano di categoria allievi secondo anno concludiamo qui e chiudiamo alla grande una grande stagione per l'Italia Bike Up Ciao Young con il circuito giovanile abbiamo chiuso quelle categorie internazionali nuovamente un saluto da Leonardo Metalli l'appuntamento quindi passa alla prossima edizione con l'Italia Bike Up Ciao Young con le ruote grasse beh io sono Paolo Alverà organizzatore di questo evento e devo essere sincero è stato un grosso impegno devo ringraziare tutti i miei collaboratori che senza di loro io non potrei fare nulla e pensando ai due giorni di come sono andati in chiusura adesso in questo momento ieri è stato un successo il team relae spettacolare da vedere per i ragazzi i cambi nel momento c'era il cambio tutti che si schieravano è stato emozionante anche la gara dei master purtroppo erano poche squadre però anche loro si sono dati battaglia è stato bello da vedere a finire abbiamo fatto la gara di giovanissimi più di 200 giovanissimi che hanno caratterizzato il memorial insomma e anche lì è un bel successo in un incantevole parco dato a disposizione dal comune di Pergine che devo ringraziare Conad e tutti gli sponsor non sto a elencarli perché altrimenti sono sicuro che mi dimentico qualcuno e ringrazio tutti e oggi oggi è la campionata italiana di società la quarta tappa e la finale del circuito di Chaiuang e diciamo che partenze con 100 ragazzi non sono facili da gestire perché il momento in cui c'è il restringimento il momento in cui si devono mettere non dico in coda ma quasi però ho visto che è andato tutto bene nessuno si è lamentato e hanno elogiato il percorso di quest'anno che l'abbiamo ancora l'abbiamo un po' abbiamo raffinato certi passaggi è divertente molto divertente l'abbiamo 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 l'abbiamo